Chi è che finalmente riesce a recensire la sua prima Barbie Extra Fancy? Ma io ovviamente in ritardo rispetto a tutto il mondo, penso di essere l'ultimo a recensirla, ma l'importante è riuscirci, o no? Quindi, visto che abbiamo questa meraviglia tra le mani e non vedo l'ora di andare a deboxarla, direi di cominciare subito con il video e non perdere tempo inutilmente. Iniziamo ovviamente a guardare la sua scatola, che è molto diversa dalla scatola delle classiche Barbie Extra. Infatti come scatola è molto più lavorata e la trovo anche molto più bella. La parte frontale è composta ovviamente da questa plastica completamente trasparente, che ci fa vedere tutta la bambola all'interno. Su entrambi i lati ci sono queste scanalature molto carine, che danno un effetto molto particolare alla scatola, dove anche su questa parte, diciamo, centrale, questa qui, ci sono tutti questi riflessi proprio nella plastica. Nello sfondo vediamo diversi colori e diversi simboli, e la stessa cosa la ritroviamo ovviamente sull'altro lato, ma con dei colori diversi. Nella parte qui in basso troviamo il logo Barbie Extra Fancy, con tutto questo effetto olografico che riflette un sacco la luce, è veramente molto bello. Ricorda l'effetto del logo delle Barbie Extra, ma è decisamente più lavorato. Da questa parte invece abbiamo l'artwork della nostra bambola con il suo animaletto, e ragazzi, come vi ho già detto tempo fa, questi artwork non mi piacciono. Trovo le bambole molto più belle confronto ai disegni. È uno stile di disegno che non mi colpisce particolarmente. Sui lati della scatola ovviamente non c'è nulla, perché sono solo di plastica trasparente, quella che abbiamo visto prima sul davanti. E invece sul retro ci sono un po' di cose da vedere che mi danno anche delle vibes anni 90, e la cosa mi piace da morire. Ovviamente qui in basso ci sono sempre le solite informazioni che non ci interessano. Qui in alto abbiamo il logo Barbie Extra Fancy, solamente argentato, senza quell'effetto olografico. Qui ci mostrano le tre bambole uscite in questa linea, la afro, la curvy e la Barbie classica. Devo dirvi che probabilmente le altre due non le acquisterò, perché ho già visto che questa qui, quella curvy con i capelli arancioni, ha il vestito che è fatto praticamente solo di plastica e non mi piace. E la stessa cosa vale per la afro, che purtroppo ha uno stile che non mi dice nulla. L'unica che volevo era proprio lei. Al centro c'è invece una foto gigantesca della nostra Barbie, della Barbie che abbiamo acquistato. Ovviamente la foto è di un prototipo, o comunque non esattamente di quella che ci arriva, perché in questo caso ad esempio ha la frangetta che è completamente diversa da quella che poi vedremo dopo sulla bambola. E invece da questa parte ci fanno vedere la nostra Barbie con gli occhiali indossati e qui sotto la sua borsettina che sembra una boccetta di profumo. Ora però andiamo subito a deboxarla così da guardarla fuori da questa scatola. E non vedo l'ora. Ed eccola come si presenta appena tirata fuori dal box e devo dire che fa una scena impressionante. È veramente molto molto bella, anche se ho già visto alcuni difetti che purtroppo ci sono e non posso far finta di non aver visto. Infatti iniziando a guardarla proprio dal suo viso vediamo che c'è già un piccolo problema. Tutta la stampa è super pixelata. Non ho capito perché Mattel si è ritornata a fare le stampe pixelate, soprattutto su una bambola bella come questa. È un difetto veramente brutto, veramente fastidioso, però andiamo avanti con la recensione. I suoi occhi sono ovviamente azzurri, sopra gli occhi sembra avere un ombretto rosa ma non si capisce bene perché con questa pixelatura non si riesce bene a capire. Sulle labbra indossa un rossetto rosa e invece le sue sopracciglia, se andiamo ad alzare la frangia, vediamo che sono molto spesse, molto definite e dovrebbero avere anche qualche pellettino disegnato ma che non si vedono perché appunto sono fatte tutte con questi orrendi puntini. Alzandoci un pochino e andando a guardare i suoi capelli vediamo che sono quasi completamente biondi, almeno all'apparenza, e davanti ha questa frangia abbastanza bombata, tagliata qui di netto. Non so se andrò a sistemarla, vedremo, pensavo di sì ma non ne sono ancora convinto. E i suoi capelli sono raccolti tutti in questa coda altissima. Non ha nessuna ciocchettina a coprire l'elastico, hanno semplicemente messo un elastico trasparente e niente di più, ma da qui possiamo notare che c'è una parte di capelli rosa. Non sono delle vere e proprie mesh, sono proprio dei capelli rutati all'interno, sotto il primo strato di capelli biondi, sotto hanno rutato uno strato di capelli rosa, che infatti possiamo vedere andando ad aprire la coda. All'interno ci sono tutti questi capelli rosa. Un rosa molto bello, che mi piace un sacco, è praticamente il rosa che avevo io nei capelli fino a poco tempo fa. E come notate i capelli sono davvero lunghissimi. Quindi pensate che sono raccolti in una coda, se noi andiamo a sciogliere la coda sono ancora più lunghi di quello che vediamo adesso. Appena usciti dalla scatola, come vedete, sono abbastanza incasinati. Non troppo, probabilmente con una pettinata torneranno abbastanza belli, quasi perfetti. Però è un peccato, perché sarebbero davvero bellissimi. La fibra comunque è stupenda, è la fibra che vorrei che Matteo utilizzasse sempre. E quindi capelli super approvati, lunghissimi, belli, i colori sono fantastici. Dovrebbero solo fare un attimo più di attenzione ed inscatolarle per evitare che si creino queste cose. Il suo vestito, anche se potrebbe sembrare, non è tutto un pezzo unico. Perché la parte del vestito in sé è un pezzo unico, ma la gonna è attaccata sul retro. Tutto a questa parte di gonna, che è ovviamente dello stesso tessuto del resto del vestito, hanno creato tutto con questa specie di vinile molto lucido, che credo sia vinile. Sembra quasi una via di mezzo tra latex e vinile, ovviamente rosa, inutile dirlo. È attaccata qui dietro al suo vestito tramite due bottoncini di plastica. Quindi possiamo anche andare a rimuovere questa parte e tenerla solamente con il vestitino corto. I bottoni ovviamente non saranno bellissimi da vedere, ma sapete che io li apprezzo sempre tantissimo, perché sono un dettaglio, secondo me, in più. Il vestito in sé, invece, è tutto un pezzo unico. Come vi dicevo, sempre dello stesso materiale, ovviamente, della gonna. E se andiamo ad allargare un attimino questi due fiocchi, vediamo che è praticamente un tubino con queste due cuciture che scendono dal seno fino alla fine della gonna. Un tubino molto semplice, molto aderente, ma che le sta veramente benissimo. Su entrambi i fianchi hanno applicato, sempre fatti dello stesso tessuto, questi due fiocchi, molto carini, sono semplicemente, ovviamente, decorativi, ma a me piacciono da morire. E invece come maniche, non ha delle vere e proprie maniche, ma ha questi pezzi di tessuto chiusi qui sopra da un elastico che danno tutto questo movimento, questa arricciatura molto bella e che lasciano completamente scoperte, come vedete, le spalle. Sul busto lo scollo è praticamente dritto e, per quanto possa effettivamente risultare semplice questo vestito una volta descritto, le sta davvero perfettamente. Passiamo adesso un attimo a vedere i suoi accessori, perché indossa una valanga di cose. La prima sono questi orecchini a cerchio, completamente dorati, ovviamente uguali su entrambi i dati, e penso 37 collane. Questa delle collane è una cosa che non sono ancora riuscito a capire, perché Mattel ne metta così tante, però vabbè, meglio che ce ne siano di più e andiamo a toglierle piuttosto che non ci siano. La prima che vediamo è questa catena lunghissima, tutta dorata, che scende fino praticamente alla sua vita, con anche qui questo dettaglio di questo cuoricino decorativo, con un altro pendente qui sotto e il fiocchettino colorato di nero. Poi troviamo questa collana, di nuovo con una catena dorata, ma con qui sotto la targhetta con scritto extra. Un'altra collanina che ho rimosso, perché se no non sarei mai riuscito a farvela vedere, che è anche questa completamente dorata, ma non è colorata d'oro, è proprio la plastica dorata, semplicemente fatta così con queste specie di perline. E poi c'è questa, che è tutta un pezzo unico, ma che dovrebbero sembrare tre collane diverse. Due collane dorate, con qui sotto anche un fiocchettino dorato, e poi la terza collana di perle bianche. Direi che praticamente le hanno messo addosso tre collane qui, più le altre tre che abbiamo appena visto. Mi sembrano un pochino esagerate, ma ok. Sul polso destro invece porta questi due bracciali, sempre di finte perle bianche. Sembrano uno perché sono tenuti insieme dall'elastico, ma vi assicuro che sono due, sono proprio due bracciali separati. Sull'altra mano invece non ha dei bracciali, ma ha questo specchio gigantesco, che non è una borsetta, è proprio uno specchio. Infatti se vedete c'è il riflesso qui. Non è proprio super riflettente, però l'idea dello specchio c'è. Con il fiocchettino, il manico e questa specie di tracollina di perle. Con sul retro la scritta Barbie extra stampata. Ma se scendiamo a vedere sulle sue gambe, vediamo che indossa questi collant color carne, con tutti questi cuoricini stampati nella parte frontale. Sono stampati solo nella parte frontale, quindi vuol dire che sono stati stampati e cuciti proprio per essere messi in questo modo. E quando fanno queste cose così precise, è sempre un punto in più nei dettagli, perché vuol dire che sono proprio studiati e realizzati appositamente per essere così, e non solamente un pezzo di stoffa tagliato a caso. Le sue scarpe invece purtroppo sono super riciclate. Non chiedetemi dove le ho già viste, ma sono sicuro di averle già viste, perché non è la prima volta che Mattel le utilizza in una sua Barbie, anzi. Devo dire che comunque sono carine, sono completamente rosa, non hanno dettagli colorati, non hanno nulla di speciale. L'unica cosa carina è il fatto che tutte queste arricciature richiamano un pochino le sue spalline. Quindi alla fine, sia per il colore che per la forma, ci stanno con il resto del look. Assieme a lei, come con tutte le Barbie extra, arriva un animaletto inutilissimo, e nel suo caso è questo barboncino, anche lui riciclato, l'abbiamo già visto in un'altra Barbie extra, ma in questo caso è completamente rosa, con i fiocchettini neri sulle orecchie, e le scarpette con il tacco, ok, nere anche quelle. Gli occhiali dorati che possiamo andare a rimuovere, perché si infilano nei buchettini che ci sono qui al lato, e questo è il suo musetto, che ho notato adesso essere stampato anche leggermente storto. Quindi rimettiamo gli occhiali così non vediamo più il suo strabismo. Poi, come abbiamo visto anche prima sulla scatola, arriva questa finta borsettina, dico finta, perché purtroppo non si può aprire. È un peccato perché sarebbe molto carina, ma ci ho provato in tutti i modi e non si apre, e a me ricorda, magari mi sbaglio, ma una boccetta di profumo. È tutta di plastica trasparente glitterata, con qui sopra questo fiocco rosa colorato, e qui davanti stampata la scritta Barbie Extra. Sulle retro c'è anche questa specie di maniglia per riuscire a fargliela tenere in mano. Le ultime due cose che arrivano con lei, come se gli accessori non ne avessimo già abbastanza, sono questi occhiali completamente bianchi di finte perle, molto semplici, ovviamente non hanno le lenti, sono un po' cheap, ma soprattutto arriva questo, che è un cerchietto, sempre di perle, che in testa sua è proprio brutto, ma brutto brutto. Per farvi capire, così è come sta con il cerchietto in testa. Ho detto tutto. Purtroppo, ma era anche un po' scontato, con lei non arriva alcuno stand, quello che vedete è uno dei miei, anche se potrebbe sembrare suo, visto che il colore è identico a quello del barboncino e delle sue scarpe, ma purtroppo no, lo stand non c'è. Detto questo, però, cosa ne penso di questa bambola? È un triple wow? Ragazzi, è un triple wow mancato. Perché? Perché è bellissima, è veramente bellissima, adoro i bottoni, adoro il materiale del vestito, la forma, la fattura, adoro tutto, i suoi capelli, la frangia. Cosa non mi piace? Le scarpe, che sono riciclate, e forse avrei messo delle scarpe più belle, ma soprattutto il viso pixelato. Queste due cose non mi fanno dire triple wow, anche se esteticamente è davvero bellissima. Nel video dei regali di compleanno, dove ve l'ho mostrata, vi ho detto che probabilmente, secondo me, è l'unica Barbie moderna che può esteticamente competere con le Barbie vintage, e quello lo confermo assolutamente. Una volta messa in vetrina, una volta messa in posa, una volta messa come la desideriamo, è veramente bellissima, soprattutto se andiamo a sistemarle i capelli. Quindi sì, confermo che è una delle più belle Barbie uscite negli ultimi anni, ma che purtroppo non riesco a darle il mio triple wow. Detto questo, però, ve la consiglio. Vi lascio qui sotto il link Amazon, soprattutto adesso che inizia a scendere un pochino di prezzo. Se la volete, acquistatela, non ve ne pentirete, ma siate pronti alla stampa pixelata, perché sono purtroppo tutte stampate così. Detto questo, aspetto di sapere cosa ne pensate voi di lei. Ditemelo qui sotto in un commento. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciatemi qui sotto un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e se vi va, ragazzi, sono anche su tutti i social con lo stesso nome Toys Expression e mi trovate anche sul nuovo profilo Instagram Toys Expression Dolls, dove pubblico solamente foto delle mie bambole. Quindi vi aspetto dappertutto. Io intanto vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.